Ciao a tutti, sono Larissa, frequento il quinto anno di liceo linguistico, ho 18 anni, sono italiana, vivo a Bergamo, in una città vicina a Milano e sono a Malaga da sette giorni. Mi trovo decisamente bene, vivo in una stanza dove ho tutto lo spazio per necessito e la mia mamma è molto gentile con noi, ci fa da mangiare tantissimo e è sempre gentile come una nonna per noi e mi trovo davvero bene. Tengo a tutti i bambini da tre anni, secondo i gruppi che vengono, lo stesso viene con la competizione completa che con la competizione media. In una abitazione che hai due camas e in un'altra che hai due litera e normalmente la nonna sta molto bene perché tiene sito, tiene tutto, su cama, ventapallita, su enchufe e su cosa in condizione. Allora, il tragitto dalla casa alla scuola è di sette minuti a piedi, quindi è molto vicino, per l'altro per arrivare se si passa proprio nella via principale, piena di negozi o comunque di bar, di scuola e regolazione. La scuola è totalmente diversa dalle scuole italiane perché le classi sono molto piccole e più incentrate sulla tecnologia e ad esempio i banchi non sono i classici banchi, però ci sono le sedi con, diciamo, i posti per scrivere anche se diciamo che il metodo di insegnamento è totalmente diverso perché non ci sono libri, ma abbiamo per lo più le schede oppure utilizziamo appunto la tecnologia per imparare. Per il traduttore mi dedico molto a ella o a l'ignore, secondo me lo che venga. Sì, perché anche se non sapete perfettamente lo spagnolo non importa perché anche noi, anche io commesso un sacco di errori, però nessuno giudica per come parliamo, anzi, sono sempre tutti disponibili ad aiutarci e ci troviamo davvero bene. Anche quando non sappiamo delle parole non c'è nessun problema e soprattutto io credo che questa esperienza sia perfetta per responsabilizzarci e comunque vivere un'esperienza con gli amici o gli amici davvero diversa e stupenda allo stesso tempo. Ata pronto, novemo in Malaga!